Guernica è un quadro di Pablo Picasso del 1937, olio su tela di ben 349,3 x 776,6 cm, quindi 3,5 x 7,8 metri circa, conservato a Madrid presso il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Viene generalmente considerato uno dei capolavori del pittore spagnolo. Il 26 aprile del 1937, aerei tedeschi e italiani, in appoggio alle truppe del generale Franco, in guerra contro il legittimo governo repubblicano di Spagna, mettono in atto un bombardamento che rade completamente al suolo la cittadina basca di Guernica, capitale storica e religiosa dei paesi baschi. L'opera viene commissariata a Picasso dal governo repubblicano spagnolo per rappresentare la Spagna all'Esposizione Mondiale di Parigi del giugno del 1937. Essa sarebbe stata esposta su uno spazio di 27 metri quadrati, su un muro perimetrale di uno dei porticati d'ingresso, facendo sì che fosse la prima e l'ultima cosa che avrebbero visto i visitatori del padiglione della Repubblica Spagnola. I 27 metri quadrati di tela in iuta grezza da riempire vengono portati nel nuovo studio di Picasso al primo piano di Rue des Grand Augustins a Parigi alla fine di aprile del 1937 e soltanto due mesi dopo l'artista termina il lavoro in tempo per l'evento cui era destinato. Gernica è un dipinto di condanna della violenza e in generale degli errori di tutte le guerre. L'opera si svolge in uno spazio che è contemporaneamente interno ed esterno e va letta da destra verso sinistra in quanto il lato destro era il primo che i visitatori potevano osservare appena entrati nel padiglione. Come tipico nei quadricubisti, la stessa figura è rappresentata da più punti di vista, senza però che nessuno di essi abbia il predominio. Sulla destra un uomo intrappolato in un palazzo in fiamme, con gli occhi a forma di lacrime, la bocca deformata da un urlo straziante e le braccia disperatamente e inutilmente rivolte al cielo. La sua postura ricorda la rappresentazione della Maddalena in molte crocifissioni, incapace di mascherare e di controllare la sua indicibile sofferenza. Muovendo verso a sinistra in basso una figura umana è tutta protesa verso la parte sinistra del quadro come a voler scappare dall'orrore di quell'uomo che sta bruciando vivo. Al centro, sempre nella parte inferiore, osserviamo il braccio di un cadavere nella cui mano vi è sia una spada spezzata sia un fiore. La spada è simbolo della violenza, della guerra, mentre il fiore simboleggia la speranza che una nuova vita possa rinascere dopo tanta distruzione. Più a sinistra, sempre in basso, il volto straziato del cadavere che tiene la spada in mano con la bocca deformata. Nel lato più a sinistra, la sua mano che mostra le linee della vita anche se spezzate a simboleggiare la vittoria della morte. Al centro, un cavallo che nella mitologia spagnola rappresenta il popolo è ferito a morte. Anche la sua bocca è spalancata in segno di atroce agonia e l'ampia ferita che ha nel petto vuole ricordare la ferita al costato di Gesù Cristo. Sulla destra della testa del cavallo, una lampada a olio in mano alla donna, il cui volto vediamo un po' più a destra, indica l'involuzione tecnologica e sociale che ogni guerra porta con sé. Sulla sinistra della lampada a olio, quello che sembra essere un lampadario che ricorda l'occhio di Dio, la cui pupilla è la lampadina forse a rappresentare la luce della speranza. Sulla sua sinistra, una colomba, simbolo della pace, che come tutte le altre figure ha la bocca spalancata in un grido di orrore e sembra stia esalando l'ultimo respiro. In alto a sinistra, un minotauro, simbolo della brutalità, sovrasta una madre straziata dal dolore che tiene in grembo un bimbo oramai senza vita. La testa inclinata e il braccio cadente del piccolo ricordano la posa del Cristo morto nella prima pietà di Michelangelo. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che la presenza della madre con il neonato in braccio di un cavallo e di un toro possano simboleggiare una natività, sconvolta però dalla violenza del bombardamento che provoca la morte di Gesù. La gamma dei colori è limitata a toni grigi, neri e bianchi, scelta con cui Picasso vuole enfatizzare l'assenza di vita e la drammaticità di ciò che sta accadendo sulla tela. Il dipinto viene conservato per molti anni al Museum of Modern Art di New York e torna in patria nel 1981, a otto anni dalla morte del suo autore e a sei anni dalla morte di Francisco Franco. Viene prima esposto al Cason del Buen Retiro, ovvero il salone da ballo dell'antico Palazzo Reale, poi al Museo del Prado e, a partire dal 1992, al Museo Nazional Centro d'Arte Reina Sofia. Durante gli anni 70, Guernica diventa per gli spagnoli il simbolo della fine del regime franchista, così come era stato in precedenza per tutta l'Europa, il simbolo della resistenza al nazionalsocialismo. Una copia di Guernica si trova nel corridoio davanti alla sala del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi ogni volta che i politici escono per fare dichiarazioni per la stampa, l'Arazzo viene inquadrato in secondo piano. Curiosità? Negli anni in cui si discuteva di un'eventuale guerra preventiva in Iraq, i vertici ONU non hanno ritenuto opportuno farsi riprendere con l'opera alle loro spalle e l'hanno fatta quindi coprire con un drappo blu. Il commento del portavoce ONU in merito è stato che il misto di bianchi, neri e grigi dell'Arazzo produceva un effetto di confusione visiva. Si narra che un ufficiale nazista, dopo aver visto il quadro, chiese a Picasso avete fatto voi questo orrore, maestro? E Picasso rispose no, l'avete fatto voi. Molto bene, questo è tutto. Spero che questo video vi sia utile. Come sempre vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Se studiate vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi. Alla prossima!